Come a te non c'è nessuno E' per questo che ti amo Salve! Buongiorno Fantastica! Eh? Di chi è? È mia! Ehi! Guarda il signore che sta guarda guarda Come si chiama? Eufrasia Eufrasia Vedi signore, Efrasia guarda guarda mamma va bene Mamma mia è fantastica E bella sei Io amo gli animali Anche io Ciao, arrivederci Signora? Sì? Me la dà per 5 euro? Volentieri Ma la gallina chi me la tiene? No Ciao, arrivederci